Volevo dire che siccome ho ricevuto delle critiche di aggressività nei confronti di questa giovane eccetera eccetera allora io sono dell'idea che a 30 anni si è giovani ma insomma anche sulla via dell'adultità che se vuoi venire a un festival della comunicazione devi aver fatto qualcosa che uno non è uguale a uno mi spiace c'è questa filosofia del digitale che uno è uguale a uno che a me fa venire i brividi perché ieri era un festival molto bello a Carrara nel professor Remo Bodei che è un grande conoscerete un filosofo uomo straordinario che mi ha gentilmente invitato io gli ho detto se uno siccome c'è anche un sindaco nuovo che mi pare di capire molto sulla linea di chi pensa che uno sia uguale a uno che mi trova d'accordo quando votiamo il nostro voto ci mancherebbe altro uno uguale a uno il mio è uguale a quello del presidente della Repubblica e viceversa su tutto il resto non siamo uguali non siamo affatto uguali uno si imbianca di capelli spero non a caso ma acquisisce sedimenta esperienze e questo credo che faccia la differenza tra di noi questo non vuol dire essere né gradassi né avere un'autostima strabordante significa dare pane pane vino al vino perché se continuiamo con questa storia che uno uguale a uno dopo ci sono dei dj che parlano di vaccinazioni e a me francamente un dj che parla di vaccinazioni mi fa prima ridere e poi mi preoccupa molto moltissimo perché non ne parlo io giustamente perché non ho competenze sono faccio lo psichiatra non faccio l'immunologo quando ho voluto capire qualcosa sono andato a cena con persone che hanno 40 anni di esperienza di immunologia ho ascoltato queste persone mentalmente ho preso appunti come così come si deve fare punto è così come peraltro ha fatto anche il ministro ministro della salute ha fatto esattamente questo se qualcuno qui dentro pensa che in realtà uno uguale a uno sia una buona filosofia allora lo invito un domani che dovesse necessitargli una visita all'ospedale e di chiamare un dj o anche un ex showgirl come volete voi vi palpa il fegato la showgirl va bene così no oppure oppure facciamo i festival dalla prossima volta adesso lo dirò ad anko singel che tiriamo su una monetina e gli autori sono estratti sul popolo dei connessi e viene chi viene va bene così o siete qui seduti perché pensate di avere una persona che forse ha delle opinioni queste opinioni non sono basate su qualche cialtronerie ma su tanti anni di lavoro mi devo vergognare di avere lavorato io non mi vergogno per niente di avere lavorato di avere scritto 30 libri di avere due lauree di aver fatto 3200 conferenze nella mia vita sono migliaia di chilometri non ci posso neanche pensare non mi vergogno di niente dopodiché se c'è una persona che si è iscritta a psicologia e pensa di essere psicologa se ha aperto un blog da due giorni pensa di essere una blogger eccetera eccetera allora è una via facile che non so dove ci porta non so dove ci porta però c'è ed è una seduzione che dipende molto dalla cultura digitale questa cosa qua che cos'è è una cosa che per la prima volta nella storia dell'umanità piace a tutti non è mai successo che nella storia dell'uomo vi sia un oggetto che piaccia a tutti cattolici ebrei musulmani anche all'isis piace sì o no? piace moltissimo bene anche a a quelli di cali della droga eh cocaina con questo si fanno grandi affari bene e poi bianchi neri tutte le pelli tutti i sessi compresi gli incerti tutti hanno questa cosa qua vi dovete chiedere come mai quando hanno chiesto a Mr. Cook amministratore delegato di Apple gli hanno chiesto che cosa vuole che cosa spera per i suoi affari qual è il business quest'anno eh da qui in prossimi anni e lui non ha avuto un minuto di dubbio ha detto noi vogliamo che tutti i cittadini del pianeta abbiano uno smartphone ci mancano un miliardo di cittadini della terra all'appello li andremo a prendere eh qualche zona sperduta dell'Australia del nord gli aborigini si vendono i telefonini anche quello non vi preoccupate inventeranno un'app per allontanare i cocodrilli lo fanno vendono vendono non vi preoccupate è perché c'è questa grande collettiva seduzione nei confronti di un unico oggetto come mai piace a tutti guardi che neanche la sedia piacciono a tutti in Africa non si siedono sulle sedie c'è un continente in cui le sedie puoi anche non venderle io no ma c'hanno i telefonini e cos'è? provateci a pensare io faccio una proposta interpretativa comodità noi stiamo stati sedotti dalla comodità in questi decenni tutto quello che era comodo facile alla portata di tutti immediatamente è un'altra degli grandi slogan che si vendono con la rete l'immediatezza eh whatsapp immediato provate a ricevere oggi un whatsapp per rispondere martedì forza e coraggio dai forza vi cercano in tutti i pronto soccorsi della Liguria eh dove è andato quello lì c'è una certa età sarà morto eh perché perché se non rispondi cinque minuti eh c'è l'isterismo collettivo sì o no bene eh l'ha fatto bene meraviglioso guardi sono dei geni pensate alla virgoletta grigia che diventa due virgolette grigie e magicamente diventano due virgolette azzurre succedono eh per questa questa cosina qua sono succedenti tanti quei divorzi eh cosa facevi alle tre un quarto su whatsapp no che poi magari semplicemente l'avevi messo sul comodino ma inavvertitamente e vi è andato su whatsapp perché la sfiga ogni tanto succede andai su whatsapp premi su whatsapp e sei connesso eh e vedi che alle tre un quarto eri connesso quindi una paranoia assoluta eh tutti a controllare chiunque sappiamo eh poi ci sono delle delle app che molti genitori utilizzano anche qualche fidanzato con la fidanzata e viceversa eh per cui io so dove sei ma neanche Sherlock Holmes c'è una cosa no pensa a te no una mamma che vuol sapere non come sta suo figlio ma dov'è suo figlio non come sta di come sta ce ne frega il giusto ma se al bar Roma invece che al bar dello sport dici vedi te l'avevo detto ha cambiato compagnie no e stai lì con lo schermo eh come la Digos eh a vedere dove diavolo va col motorino eh bene io di questa paranoia francamente non so cosa farmene è una gran perdita di tempo una grandissima perdita di tempo io sono venuto un anno fa ho presentato giusto un anno fa qui era appena uscito il mio libro baciami senza rete che in realtà si doveva chiamare chiudete facebook e baciatevi poi gli avvocati della Mondadori mi hanno detto lei è molto ricco perché dice no perché sa se la facebook ci fa una causa paga lei no dico guardi preferisco che no eh e quindi poi c'era un barretto vicino alla piramide eh carino dove una volta sono andato a bere una cosetta alzo gli occhi c'era un bellissimo scritto c'era wifi free ma se vi parlate pure meglio eh questo mi ha convinto che bisognava scrivere una cosa su questo perché c'è un po' di buonsenso di saggezza che resiste però dall'altra parte c'è un c'è uno strapotere straordinario le quattro aziende più 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 quotate del mondo i fatturati più alti ma tra tra un anno ci sarà e way che ha già fra l'altro avrà superato apple nel numero di smartphone venduti quindi si sta anche cambiando la geografia di questa grande economia che occupa pochissime persone e fa fatturati inarrivabili bene io non ce l'ho con queste io anzi voglio evitare di ragionare in maniera cibernetica zero uno a me non interessa scegliere tra vivere in cima a un bosco mangiando carote oppure essere connesso 24 ore su 24 io non voglio scegliere tra queste due buste io voglio scegliere tra i miliardi di buste che ci sono tra quella A e quella B voglio per esempio avere l'ardire di decidere io come utilizzare una cosa e non quella cosa come deve utilizzare me perché amo la libertà finalmente ce l'avevamo anche l'avevamo anche raggiunta dopo secoli di lotte di morti per la libertà adesso gli nemici della libertà non hanno strane giubbe strane divise strani vessilli sono invisibili sono in casa e questo a me personalmente mi inquieta sapere che perché ho fatto una volta un pagamento con la mia carta di credito e avendo visto quando sono nato mi vengono delle pubblicità sulle poltrone che salgono le scale a me dà un po' il nervoso sto aspettando i pannoloni so che arrivano questo inverno arrivano i pannoloni però poi l'altro giorno ho capito che queste big data sono anche molto scemi mi è arrivato un avviso dice vuole laurearsi in psicologia in due anni non so cosa si poteva fare per laurearsi secondo me anche lì adesso siamo è fantastico è fantastico sanno di noi che mutande utilizziamo a voi non irrita a me molto io so io vengo da mio nonno era anarchico non è che proprio gli piaceva seguire le regole di qualcuno faceva a modo suo io sono cresciuto che pensando che così si dovesse fare che non vuol dire offendere nessuno semplicemente lo diceva anche Frank Sinatra my way o no non diceva your way diceva my way penso che sia giusto fare la vita a modo nostro ci riusciamo non lo so e se invece che il montascale questi dati vengono utilizzati in una campagna elettorale o nelle decisioni grandi importanti decisioni siamo tranquilli io no io non sto facendo dietrologie non sto dicendo che c'è il grande vecchio io appartengo a una generazione che me l'han detta 60.000 volte che c'era il grande vecchio che poi doveva essere Andreotti poi non si sa se era Andreotti o suo cugino io non ho mai pensato che ci fosse il grande vecchio non mi piaceva neanche l'idea che ci fosse il burrattinaio e noi fossimo dei pupi siciliani che ci muovevamo con la musica no non penso che penso che abbiamo fatto un sacco di cretinate che il terrorismo è anche prodotto di una idiozia totale e anche di una grandissima ignoranza poi che ci fosse dietro CIA KGB non mi è mai appassionato ma dico questo perché non credo che dietro ci sia Mr. Cook piuttosto che Zuckerberg che da Silicon Valley ci sta dirigendo da qualche parte sto dicendo che quella cosa lì big data che sono delle grandi utilità per chi ma per chi ha i magazzini per esempio ci risparmia certo ma questo i big data in realtà hanno un precedente italico che sono i signori Benetton i signori Benetton avevano inventato una cosa abbastanza geniale c'avevano le casse che erano collegate ad una centralina le casse di tutti i negozi mettiamo italiani sapevano all'ora di chiusura mettiamo le sette e mezza di sera che cosa avevano venduto nel dettaglio avevano venduto mettiamo 32 maglioni verdi e uno giallo il giorno dopo siccome erano tinture in capo la macchina produceva maglioni verdi e il giallo arrangiatevi era una cosa intelligente hanno vinto sul mercato facendo così era un big data era un big data perché veniva da un network di negozi importanti quindi non era basato su 10 persone non sbagliavi perché effettivamente i 32 maglioni verdi li avevi effettivamente venduti e quindi evidentemente c'era tanta gente che voleva quella cosa lì e lui che cosa ti dà quello che tu pensi che stai cercando è un giochetto è un giochetto va benissimo sulle idee sulle ideologie ci andrei un pochino più calmo perché finché vendiamo i maglioni finché vendiamo il colore della 500 va benissimo sull'altro io qualche mezza idea ce l'avrei perché scusate ma cos'è che siamo qui a fare io penso per esempio quanto a eleganza se voi guardate una fotografia degli anni 50 di un di un evento sociale vedete salta gli occhi una cosa che gli uomini ma anche le donne ma soprattutto gli uomini erano tutti uguali avevano tutti un vestito grigio tutti un capello scuro perché tutti avevano un capello è una è una camicia rigorosamente bianca fine poi quelli che hanno lavorato sulla prima campagna delle elezioni di John Fitzgerald Kennedy avevano scoperto che il bianco non funzionava e cos'hanno fatto una cosa che andava contro i big data e gli hanno detto John mettiti una camicetta stasera che c'hai confronto decisivo alla televisione con Nixon mettiti già sei bello ma mettiti una bella camicettina azzurra che ti risulta l'occhio ha vinto ha vinto perché dietro quell'idea c'era un'idea di freschezza di gioventù di mi spiego dall'altra quell'altro immediatamente anche se non era così più vecchio sembrava uno che veniva dall'ottocento e quella gioventù quelle giovani generazioni sono state il grande cambio come vedete il grande cambio anche politico anche sociale dipende dalla disobbedienza non necessariamente dall'obbedienza oggi abbiamo celebrato quest'anno c'è andato anche il Papa Don Milani Don Milani ma nessuno l'ha letto se qualcuno avesse provato a leggerlo cito la famosa lettera al cappellano militare in anni difficilissimi post bellici dove l'esercito quell'esercito lì era anche la salvezza stata la salvezza per noi non è che scherzavi tanto sulle cose perché c'era stato un conflitto e lui che cosa dice dice ai preti come lui non fate la carriera del cappellano militare e un prete non deve essere un militare deve essere un pacifista era scontato pensate che abbia ottenuto grandi di plausi anche dentro la gerarchia vaticana o esattamente il contrario dire ma chi è questo impertinente chi è questo pretino delle colline toscane che dal nulla si permette di dire che cosa come dobbiamo la pace le cose ma lascia stare e le gerarchie dei militari e i generali e quelli che lavorano per i generali e quelli che fabbricano i cappotti per i soldati cosa fanno vanno tutti a casa no teniamoci questa cosa qua la verità è che oggi grazie a lui abbiamo capito che a volte il coraggio è proprio quello di dire di no e noi siamo in una repubblica dei like I like I like I like dislike pochi avete mai visto i dislike ci sono perché hanno fatto delle lunghe riunioni a Cupertino California perché ci hanno pensato all'inizio e hanno detto di no perché non era marketing oriented come dicono loro cioè non faceva fatturato poi mi hanno detto vabbè però è brutto dire sempre di sì mettiamo qualche no poi nessuno li vede i no ma perché ti piacciono tanto i like perché fai prima il no deve essere anche in qualche modo motivato no tu devi dire no perché è come come un genitore che volesse mettere delle regole per un figlio no stasera non esci perché cosa gli dici perché è buio no cosa gli dici eh gli dovrai dire che che non hai studiato un accidente hai preso 4-4 di seguito te la scordi sì o no è un due punti a capo A B C D se studi esci se non studi non esci c'è una regola se volete questa inventatvene qualche altra qua una regola vi consiglio di averla eh e questo è un'articolazione della disobbedienza non dell'obbedienza questo non vuol dire l'inno dell'anarchia questo è un inno del buonsenso mi spiego c'è un'idolatria che nei confronti dal del del digitale che nasce da un conflitto meraviglioso interessantissimo stato forse il conflitto più interessante dal punto di vista pubblicitario del secondo dopoguerra era eravamo a metà degli anni ottanta c'era un gigante che si chiamava IBM e c'era un nanetto che si chiamava Apple IBM esce con una campagna fantastica vi ricorderete le persone che erano allora adulte se lo ricorderanno grandi campagne con cose 6x3 cartelloni 6x3 enormi in tutte le nostre città e c'era scritto un claim con una parola think pensa fantastico tu guardavi quella cosa e cosa pensavi questi se mi dicono che io posso pensare perché così la interpreto vuol dire che sono libero vuol dire che questa macchinetta che mi stanno vendendo mi renderà libera permette a me oscuro cittadino del mondo di diffondere il mio messaggio il mio pensiero i miei dubbi le mie critiche dico bene o no Steve Jobs sta preparando la risposta micidiale meravigliosa da lì a qualche mese claim di due parole think different io sono impazzito della gioia perché era il mio mondo poi c'era una serie di icone con il think different c'era Maria c'era Maria Callas c'era Picasso c'era Einstein c'era Martin Luther King c'erano tutti e come fate ad essere contro Martin Luther King contro Gandhi contro la Callas era il nostro mondo il mondo dei nostri liberatori il mondo della gente che voleva il bene dell'umanità come facevi John Lennon c'era madonna che mancava nessuno se mi avessero fatto una telefonata avrei detto anche io quei nomi lì e che cosa cambia di subliminare da allora che abbiamo cominciato a parlare di messaggi subliminari che non ti vendo il Macintosh S.E. che era il prodotto da vendere all'epoca simpatico ti diceva hello alla mattina lo accendevi e faceva hello a me piaceva quella roba la all'altro un quarto uno che ti dice hello nessuno neanche ti dice buongiorno è una macchinetta che ti riconosce pensavo che volessi dirlo proprio a me solo a me non agli altri quindi ero molto contento della Apple che cosa è successo è successo che quando senti parlare di tecnologia digitale hai un meccanismo automatico positivo se io adesso vi dicessi signore signori questo è il nuovo iPhone 8 quello che sarà presentato il 12 settembre è alla grande cerco della Apple e vi dirò una cosa straordinaria un modello stupefacente è un millimetro di meno davvero porca miseria un millimetro di meno lo sentite subito nella tasca si o no ti do questo quello di un millimetro capisci subito no e poi pesa 10 grammi di meno e c'ha mille pixel in più perché voi la mattina accendete contati pixel no giusto è ovvio che uno continui quanti dimagli continui hai tu no fai la gara chi c'ha più pixel quindi pensa cosa ti vendono cioè nessuno al mondo potrebbe vendere una roba del genere a meno che tu non ci avessi da 30 anni e più è vangato il terreno con messaggi subliminali dicendo la tecnologia è libera la tecnologia è smart è così smart smart cities smart men smart everything no tutto smart e poi bisogna vedere se è smart cosa vuol dire che è smart bu eh non lo so prendete i computer di bordo una volta ho fatto una conferenza in un paesino vicino a Brescia io e te andiamo in tutti i paesini frazioni coltiviamo il territorio nel senso allora vado in sto paesino che era così piccolo non c'era neanche una stamberga per dormire finita la cosa gli undici di sera dico io devo tornare a Brescia a dormire bene vediamo se c'è qualcuno che va di là viene avanti una signora dice vado a Bergamo benissimo le do un passaggio io dopo le conferenze ho un down è proprio un carro di adredalina non ho voglia di parlare non mi ricordo neanche niente da dove vengo cioè ho proprio una sorta di black out eh devo riprendermi e quindi mi sono messo lì era inverno attaccato alla cintura vedo che questa qui mette e mette tutto sto indirizzo nell'albergo dopo una mezz'oretta che facevo finta di dormire per non parlare eh però ho dovuto alzare il dittino e dire scusi signora scusi eh a me è parso di vedere Brescia due chilometri fa mi pare eh qua sulla destra no perché l'ho vista proprio c'era scritto Brescia cioè non è che è un'opinione no lei cosa ne sa a parte che ne so un po' ci sono andato diecimila volte però secondo me è lì e questo fa non è mica possibile mancano 22 chilometri dico signora è sicura e lo dice il computer per l'amor di Dio ne abbiamo fatti 54 in più c'è andata benissimo perché se ci fosse stata una frazione in Liguria che si chiamava Brescia e noi venivamo qua alle 6 di mattina al mare dovevi dire alla signora che forse non era giusto però come fai a dirglielo ad una fedele così così profonda così no ma che cosa è successo ma voi ridete ma è una tragedia io non sto facendo lo spiritoso io parlo di tragedie che noi siccome il cervello è un muscolo è un muscolo quindi se lo alleni funziona se smetti di allenarlo quindi le persone della mia età si consiglia sempre la settimana linguistica perché ha un suo perché adesso non entro nel particolare eh bene se tu deleghi una parte delle tue competenze comprese le tue facoltà cognitive ma non solo quelle non solo quelle ad una macchina tu ti privi di quella cosa il baratto qual è fai meno fatica perché è la macchina che la fa per te come l'aratro faceva al posto dell'uomo eh però in realtà l'aratro era solo fatica fisica qui stiamo parlando di fatica mentale giusto sì o no tra un po' ci saranno le macchine a guida autonoma non ci saranno più gli autisti uno dice chi se ne frega tanto tra i tanti eh lavori che si perderanno da qua i prossimi anni anche l'autista è uno di quelli bene e invece no mi dispiace perché l'autista cioè ognuno di noi che guida nella guida hai una serie di attività eh anche cognitive per esempio stereotassi che si chiamano cioè la tua spazialità la tua spazialessere nello spazio eh perché se guidi sai che devi stare a destra non puoi stare in metà strada giusto questo te lo dice un automatismo che si chiama stereotassico perché uno che guida dall'altra parte o è inglese o è un po' demente ecco allora tutte queste e altre cose che sono anche competenze come possiamo dire relazionali perché se guidi ogni tanto poi anche eh io per esempio quando vado a fare il pieno alla benzina faccio sempre due chiacchiere voi direte perché eh perché mi piace eh di cosa parliamo del tempo normalmente del tempo eh però mi piace interrompere una guida con un umano eh capite a mia figlia questo lo detesta che dice che io parlo con degli stranieri io gli spiego che sono italici eh però lei non capisce perché lei si fida di chiocciolina 27 con cui comunica al di notte che quella è notoriamente una persona nota no? eh invece il benzinaio in carne ed ossa lei lo schifa un po' perché pensa che chissà cosa chissà cosa penserà e invece del benzinaio ha una sua ha una suo perché perché magari devi uscire dopo 10 chilometri chiedi ma lei è di Arezzo eh ma non è che c'è una trattoria ad Arezzo che lei mi consiglia cioè nella cosa in queste cose capisco molto ottocentesche eh che sono le conversazioni conversazioni eh queste cose qua ti arricchiscono fai esperienza perché quel signore ti dice no quella via Roma lasci perdere si mangia uno schifo vada in via Carducci tre traverse dopo a destra e non si perda gli gnocchi ma c'è scritto sul tom tom ma cosa volete che sappiano Cupertino Californico sono gli gnocchi ma quelli bevono starbush bevono delle ciofecche che mio nonno durante la guerra si sarebbe rifiutato eh a Cupertino Californico si beve con quei bicchieri no così quella specie di cartone chissà come la fanno già quello eh e poi sta roba calda che sembra veramente una cosa da non lo so da servizio militare una cosa terribile ma cosa volete che ne sappiano ma noi ne sappiamo ma certo noi 500 anni fa avevamo Leonardo Cupertino Californico non c'erano neanche gli scorpioni e uno di Cupertino Californico deve dire a noi come dobbiamo vivere ma siete sicuri che questo sia giusto ma noi un pochino lo sappiamo o no voi pensate che le vostre eh trenette al pesto a Cupertino Californico no c'è scritto evitate è come lasagna bolognesa eh dei ristoranti americani che se volete morire prima del dovuto eh affrontate pure quei cibi eh se no evitate eh portate cose da casa portate de cecco dentro la valigia salvatevi eh perché non ci possono insegnare su tutto eh perché noi abbiamo abbiamo acquisito e non è una cosa di un anno è una cosa straordinaria dentro quell'acquisizione culturale eh c'è anche la nostra libertà ma se Caravaggio avesse dipinto secondo i big data che cosa avrebbe dipinto? Cioè secondo una media ponderata eh di ciò che gli italiani si aspettano da un quadro cosa è molto semplice avrebbe dipinto più o meno le madonnine senesi del quattrocento cioè delle banalità con tutto rispetto tranne qualche eccezione eh ma delle grandissime banalità tutti uguali come il perugino tutti uguali madonna di qua santo di qua bambino in mezzo in grembo la madonna sfondato destra sfondato sinistra e ghirlanda di fiori sopra ne avrà fatti cinquecento novità no no la luce su una tela novità pazzesca mai visto una cosa del genere big data manco mezzo ha fatto di testa sua a modo suo ha sfidato ha avuto coraggio il papa non gliel'ha pagata quella 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 deposizione di san matteo perché l'ha fatta con i piedi che è pieni di terra nessuno aveva fatto un santo con i piedi di terra ma lui ha detto ma è un contadino sì o no sì allora ha i piedi sporchi eh e il big data dice che no eh ho capito io però questa cosa qua oggi a distanza di secoli ti emozionano la statistica la mediana cosa volete che vi è il 6 meno meno ma possiamo adottare il 6 meno meno come come stella polare della nostra vita ma scusate voi andate in un ristorante e poi dice com'è quel ristorantino lì ah 6 meno meno ci tornate no sì o no beh e questo è il voto più votato nelle scuole italiane il 6 meno meno è perfetto no è meraviglioso perché il 6 meno meno che sarebbe negativo ti promuove quindi è proprio una pornografia pedagogica totale eh che però ti insegna no che la mediocrità ti fa andare avanti che non c'è bisogno poi di sapere tutto questa melassa questa questa cultura liquida no che abbiamo adorato in questi anni e dobbiamo ammetterlo di averlo fatto l'abbiamo adorato eh il fatto di non prendere mai una decisione fai no e io stamattina mi sono meravigliato delle persone che mi dicevano ah però lei ha fatto una discussione con quella ragazza cosa dovevo fare io ma io io sono abituato a discutere guardate c'è una una similitudine tra la parola discussione e litigata avete notato che adesso per dire litigare si dice discutere la discussione è una cosa meravigliosa eh la discussione è io che non ci spacchiamo la testa con la bottiglia di birra ma sì io sono cresciuto con delle persone che litigavano mi ricordo Franco Basaglia i suoi io ero un ragazzino era come andare a una partita di tennis uno che diceva l'altro poi si alzavano andavano via sbattevano la porta ritornavano ma questo è meraviglioso pensavo che me la regalassero a me me l'avessero regalata questa cosa qua per farmi capire quanto è bello avere delle idee lottare per le proprie idee ascoltare avere l'umiltà di ascoltare anche quelle degli altri e possibilmente mitigare i tuoi punti di vista quando quegli altri ti convincono di qualche cosa ma se siamo tutti da sei meno o meno ma cosa ci convinciamo a far cosa sì o no se l'idea è il preta portè mi raccomando comprate solo case con piccoli terrazzini perché Amazon adesso si è rifornita di droni e quindi no no la signora ride c'è poco da ridere a New York ti consegno la merce in mezz'ora compresa la cena quindi avete uno spazio perché in quello condominiale no perché vi fotono c'è la vecchietta sopra nel terrazzino quindi dovete avere un vostro proprio questo è il futuro bellissimo questa cosa meravigliosa è proprio erotica direi stiamo tutti in casa tutti in casa fermi come le ocche di Strasburgo no non abbiamo bisogno di niente vuoi cosa vuoi vuoi le tagliatelle Amazon te le porta voi vorrai mica andare alla trottoria che fa freddo e poi trovi i nemici no perché in trattoria è piena di nemici no tra un po' ti porteranno anche la birra stappata perché vuoi fare la fatica di far questo questo comporta un'idea di non dover fare fatica di fare niente ci sono genitori che portano ai figli gli zainetti c'era un signore mi ricordo quando mia figlia era al liceo una volta mi ha chiamato ha detto papà questa la devi scrivere bella era una domenica il liceo occupato da tre giorni dice c'è una fila di mamme con le lasagne calde io il genitore catering ancora non l'avevo l'ho aggiunto alle varie variabili dei genitori italici molto modesti perché per fare catering proprio bisogna che prendi la tua dignità e la butti dentro il gabinetto o no così come fare le tante naturalmente crescendo così serviti e riveriti pensando che tu dentro questa cosa qua c'hai tutto non hai bisogno di niente ho fatto quest'estate un bellissimo panel con dei giovani produttori cinematografici mi hanno detto una cosa che mi ha angosciato mi hanno detto noi stiamo siccome è difficile trovare gente che ci fa fare i film eccetera perché dove li metti adesso la luna cosa è youtube quindi noi faremo già da quest'anno stanno facendo dei microfilm da 22 minuti per youtube da vedere qua perché 22 minuti perché i big data dicono che l'orario il tempo medio passato in metropolitana sono 22 minuti e quindi cosa cavolo fa i metropolitanti vedi il filmino deserto rosso no no vedi una cazzata che puoi vedere che puoi vedere in questi 10 cm quadrati pensate se questa cosa qua voi gliela date a storaro è il maestro la fotografia di Antonioni di cose no perché tra un po' sarà per iwatch film per l'iwatch no pensa arancia meccanica no ridete ma perché ridete è un'industria dietro non è che stanno scherzando netflix non è che fa un fatturato di 100.000 dollari all'anno mi spiego netflix ha una serie di cose andate a vedere perché perché i produzioni netflix sono di 51 fino a 58 minuti perché sono i treni andate prendete una freccia rossa da milano a roma e vedete quanta gente sta sull'ipad a vedersi un filmino ma non c'è niente di male certo solo che su netflix non c'è la strategia del ragno non sapete che cos'è è uno dei capolavori di bernardo vertolucci il 1969 è un film bianco e nero strepitoso dire strepitoso dire niente che però non ha fatto cassetta non ha vinto nessun oscar e quindi è cancellato e quindi tu non lo vedi semplicemente non c'è perché tu vedi film quelli che ci sono su netflix e tra un po' ci sarà solo quello è come d'altra parte se tu vai al ristorante qua in montagna non è che poi pretende che ci sia il pesce non c'è però quella sarebbe cultura generale e se togli un capolavoro giovanile di bertolucci togli un pezzo della nostra cultura secondo me mi avvia le conclusioni con tre o quattro altre cose terrificanti allora una è il mio amico da tantissimi anni professore di estetica Milano facoltà di filosofia il preside facoltà l'anno l'anno scorso cioè settembre 2016 ha mandato una mail dicendo tutti i testi udite udite che superano le 400 pagine devono essere risunti è una bella notizia insomma eh can't gnavamo ma perché perché hanno ragione non è che è una roba così non ce la fanno è vero perché io eh quando avevo quell'età lì facendo medicina se c'è qualche dottore in sala io sto benissimo però era solo una questione di eh abbiamo fatto clinica medica per esempio 6.450 pagine 6.450 pagine un colpo la domanda potrebbe essere pagina 1 pagina 6.450 perché ce l'abbiamo fatto eravamo intelligenti abbastanza medi eh secchioni assolutamente no allenati sì leggevamo mediamente 150 pagine al giorno perché? perché era il nostro mestiere quotidiano poi andavi con la ragazza fuori però il giorno faceva anche il lavoro lì giusto? se io domani dovessi fare maratona muoio perché? perché non sono allenato c'è della gente di 80 anni che corre la maratona quindi non è una questione di età è questione di allenamento eh e se funziona con i muscoli funziona con la testa e se io non faccio quell'esercizio là non ce la faccio risultato? riduciamo riduciamo eh tra un po' andremo ai bignamino eh su su Kant eh due pagine e mezza ma sarà anche troppo perché Twitter prevede 140 caratteri e quindi bisognerà riassumere Kant in 140 caratteri allora o voi siete ungaretti e vi do una brutta notizia è morto non è tra di noi oppure siamo tutti rimbecilliti e anche vagamente presuntuosi perché riassumere su 140 caratteri ma cosa pensate di poter dire in 140 caratteri che la nonna ha buttato giù la pasta sì o no poco più o vogliamo riassumere che cosa il problema è del dissesto idrogeologico in 140 caratteri il problema dell'immigrazione in 140 caratteri il problema dell'Unione Europea in 140 caratteri e non fate quelli che non ascoltano quello che sto dicendo perché la stragrande maggioranza dei nostri politicanti scrivono su Twitter non sto vaneggiando o no scrivono la battutina che guarda caso deve essere ad effetto perché ovviamente in quei 140 caratteri la devi sparare grossa perché se no non ti si fila nessuno quindi sono 140 caratteri che devono essere molto arditi tipo quella signorina assessora che ha detto no se prendo quelli che hanno compiuto quella violenza sessuale io li costringerei a tagliarselo che è un concetto che sta in 140 caratteri effettivamente non è molto profondo però l'ho capito il migliore è stato l'autista dell'Atac di Roma quello quello è io se fossi Dan Kosinger il premio 2017 per la comunicazione che lui è entrato prima del servizio aveva il display del suo autobus e ha scritto con la macchinetta vaccinatevi sto cazzo molto elegante è una prosa molto avanti l'hanno ripresa tutti migliaia di follower fantastico funziona è vero funziona se tu dici una cosa del genere la vedono tutti perché ci sta dentro quella rubina lì quel display piccolino che miniaturizza il nostro pensiero la nostra anima ma questo è un insulto alle nostre intelligenze quindi non leggiamo più scriviamo cose laconiche eh è la nostra anima l'intelligenza l'intelligenza artificiale c'ha tante cose non c'ha l'anima non c'è neanche il dubbio non c'ha tante cose che sono formidabili dell'umano sì o no non c'ha paura ma non c'ha neanche tanto coraggio c'è niente l'intelligenza artificiale è una cosa per carità che ci risolverà un sacco di problemini eh ma va benissimo per carità rimane un problema chi siamo noi cosa faremo quali saranno le nostre competenze eh un bambino che non disegna più perché non disegna più all'asilo perché c'ha l'iPad io ho fatto una una perché non so ogni tanto mi vadi di litigare a me mi pare una cosa così bella sono andato a Reggio Emilia sapendo che c'erano quelli di Reggio Children davanti e ho detto non si vive di copyright bisogna innovare e secondo me l'innovazione di una scuola primaria è non digitale perché tanto dalle 4 in avanti digitale sarà la vita di quel bambino almeno in quelle 6 ore che sta a scuola ma fategli fate fare cose strane tipo dipingere tipo usare usare il usare il pongo queste cose la scuola i nostri grandissimi grandissimi pedagogisti ci hanno insegnato che l'educazione ha un senso se è complementare cosa faceva Maria Montessori osservava i suoi bimbi figli degli operai di San Lorenzo 1920 vedevano che erano figli di poverissima gente ci ha messo tre secondi per capire che in quella povertà non ci potevano essere i giochi perché i genitori non avrebbero mai avuto i soldi per comprare dei balocchi e i figli giusto e lei cosa ha pensato e glieli devo dare io io sono complemento di quella vita arricchisco quella vita in maniera complementare non posso fare fotocopia della vita quotidiana di un bambino io devo dare qualche cosa di esplosivo di straordinario e inventa i giochi e inventa la didattica attraverso il gioco e inventa un metodo scientifico è la stessa cosa che ha fatto Don Milani che hanno fatto che hanno fatto anche in parte Reggio Cildre e adesso è l'esatto opposto mi spiego perché almeno un bambino provate a pensare un secondo provate a pensare che bello che sarebbe per noi adulti poter possedere a me piacerebbe da matti dei documenti tipo le lettere che io spedivo alle ragazze al liceo ovviamente sono documenti che non si possono non so se ci sia una signorina che adesso sarà nonna che da qualche parte le ha tenute non credo mi sarebbe piaciuto perché avrei capito me stesso di quell'epoca mi spiego è come è come quando vogliamo capire no un bambino vogliamo capirlo cosa facciamo quando non c'ha verbo cosa gli facciamo fare disegnare tu fai disegnare un bambino e capisci attraverso il disegno qualcosina di lui sì o no e se non disegnano più non ci interessa più l'inconscio mamma mia paura questa c'era riuscito neanche neanche il nazismo a una cosa del genere uccidi l'inconscio della gente provateci a pensare e vedete allora finale siamo senza speranza no c'è una cosa in cui io credo che è la risposta anticorpale si chiama così non in senso biologico ovviamente in senso psicologico eh esiste la nausea giusto perché se voi mangiate 50 gelati di seguito vi viene la nausea cioè è un servomeccanismo che vi aiuta a dire forse è meglio che passi le bistecche bene allora se voi usate fate così nel mio mestiere si chiama paradosso terapia del paradosso io dico ai genitori volete regalare un iphone ai vostri bambini fate una cosa regalategliene 20 25 uno per uno per colore anche quello con gli svaroschi mettete un sacco di soldi su sta roba qua cosa ottenete che quel bambino non ne potrà più eh inducete una risposta anticorpale eh che si chiama nausea è bellissimo è una cosa straordinaria è una cosa che mi ha insegnato mio papà a fare il medico del lavoro eh e tanti tanti anni fa quando io ero bambino avevo sentito una sera che raccontava mia mamma lui andava nelle fabbriche a vedere come stavano gli operai e quella sera lì era andato a vedere una fabbrica di cioccolato io ero rimasto assolutamente sterefato questa notizia che avevo carpito dalla loro discussione quando mi ha accompagnato a letto gli ho detto papà ma è vero questa cosa che sei stato in una fabbrica del cioccolato dice certo sono stato oggi pomeriggio e dice ma non è possibile che ci siano le fabbriche di cioccolato perché gli operai fanno il cioccolato poi se lo mangiano quindi come fanno a vendere il cioccolato dice questo è un grande problema e lì mi ha raccontato una balla fantastica eh che è diventata una grande metafora nella mia vita dice guarda succede così il padrone della fabbrica del cioccolato prende tanti ragazzi e ragazze e li mette dentro una grande sala enorme con tutti i cioccolato del mondo gratis e questi cosa fanno entrano e mangiano entrano e mangiano 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 finché quando vedono il cioccolato vomitano ed è lì che vengono assunti ecco questa è una grandissima metafora noi ci abbiamo l'effetto del vomito non sarà per tutti non sarà per tutti il mondo non funziona in maniera ecumenica non sarà per tutti ci saranno delle delle ci sono già delle osterie dalle mie parti che sono digital free e non sono dei grandi ristoranti raffinati però sono degli osti che ci tengono a quel che cucinano e dicono c'era uno che ha detto ma lei viene qua a mangiare perché le piace le cose che faccio o viene a farsi quattro chiacchierate perché se deve farsi quattro chiacchierate quella è la porta se viene a mangiare le robe mie metta pure il telefonino dentro questa bella cassetta di noce che le ho fatto per lei lo lascia lì e quando ha pagato il conto gliene ridò le chiavi giusto vai lì e senti sto profumo di caccia e pepe ma cosa vuoi fare il caccia e pepe con l'iPad ma scusate ma è un'offesa per tutti i cuochi del mondo la cucina è una cosa straordinaria perché mette in azione tutti i tuoi sensi anzi bisognerebbe mangiarla con le mani le tagliatelle così c'è anche il tatto è finita quindi io credo molto nella in questa reazione che qualcuno di noi avrà non vuol dire buttare via non vuol dire tornare indietro non vuol dire niente di tutto questo vuol dire avere semplicemente del buon senso e fare della nostra quotidianità una pratica di buon senso far vedere noi siamo esempi per i ragazzini per i bambini se un ragazzino ci guarda e noi siamo attaccati ad un device qualsiasi esso sia 20 ore al giorno ma cosa pretendete da loro? come minimo faranno la stessa cosa giusto? e non si può neanche pretendere pensate che bello qua questa pioggia qua che c'è un signore che papà che ha la sua barchetta di legno la spinge dentro il mare e va via tutto sabato la mamma è imbuffalita perché non risponde e poi scopre che il telefonino è sul comodino l'ha lasciato lì pensa che meraviglia cosa gli spiega quel bimbo che esiste la libertà che questo è un mondo meraviglioso che non siamo schiavi di nessuno e se ti va rispondi se non ti va prendi queste quattro triglie in questi scogli o no? e sarai contento e tuo figlio farà qualcosa diverso ma in qualche modo sarà indirizzato dall'esempio che ha avuto dobbiamo avere il coraggio di essere esemplari grazie a tutti